Una tragica notizia in queste ultime ore ha stravolto il quotidiano di una delle ballerine e personaggi della televisione più seguite e amate del momento ovvero la dolce e solare Giulia Stabile La vincitrice di Amici 20 si è trovata a piangere la scomparsa di una tra le persone più importanti per lei È morta la sua coach.Per quasi tutta la sua vita Giulia Stabile è stata la fianco della sua insegnante di danza ed è anche grazie a lei che la ballerina è riuscita a diventare chi è oggi, a sfondare nel mondo del ballo e della televisione la tenacia e la costanza che ha sempre dimostrato, dentro e fuori amici, le deve a lei Il lutto devastante punto con una lunghissima e commovente dedica, Giulia Stabile ha cercato di riassumere oltre 19 anni insieme alla sua insegnante, Flaminia Buccellato, direttrice dell'Accademia Balletto Roma L'ha definita una delle persone più importanti della mia vita ed è così visto che la seguì sin da quando aveva tre anni Io voglio che tutti si ricordino di lei, la mia direttora, ho iniziato a chiamarla così, finché non ha cominciato pure lei presentarsi così, si era autonominata la mia seconda mamma e stata la prima a credere in me Con lei che mi ha resa la ballerina e persona che sono oggi, ha iniziato a raccontare con il cuore in mano la 22enne Come una mamma aveva sempre questo bisogno di dover fotografare e riprendere tutti i bei momenti per poterli rivedere, rivivere e ci riprendeva sempre Fiera non solo quando ballavamo ma anche quando facevamo cavolate Ogni volta che ne combinerò una penserò quante risate si starà facendo Voglio che famiglia buccellato venga ricordata per tutto quello che fatto per tutti i ragazzi passati per la scuola che abbiamo chiamato casa, ha aggiunto commuovendo i 1,6 milioni di follower Una serie di foto allegate e un miriade di commenti dai fani da chi la conosceva Sempre con te, donna unica, scrivono in tanti Grazie a tutti